Come si è fatto per andare incontro a quelle che sono le reali esigenze del consumatore? L'imballaggio deve cambiare perché deve andare veramente a interpretare correttamente quelle che sono le esigenze di un pubblico che si fa sempre più consapevole delle sue scelte d'acquisto. La soluzione proposta da Ocme è sicuramente molto interessante per il brand owner perché fa risparmiare materiale che è la cosa più importante, non solo materiale ma anche energia per quanto riguarda il forno di termoletrazione e soprattutto migliora anche la presentazione dei loro prodotti sullo scaffale di vendita. Grazie Grazie Grazie